Dopo settimane di rumor e pettegolezzi ed un silenzio sociale che ha allarmato i fullover, è arrivata la conferma. La supermodella Adriana Rima e il suo compagno Metinara, con il quale è stata insieme per più di un anno e mezzo, si sono detti addio. A rendere nota la notizia è stata la rivista People. La crisi, secondo i ben informati, era nell'aria da tempo, ma solo ora, stando a quanto riportato dalle pagine del settimanale americano People, è arrivato l'annuncio dell'addio di una delle coppie più belle del Jet Set internazionale. L'ex angelo di Victoria's Secret ha provveduto a rimuovere dal suo account Instagram personale tutte le foto che la ritraevano insieme al suo ex compagno, mentre lui ha lasciato tutto così com'era. Un indizio di rottura che alimenta la veridicità di una news che ha lasciato l'amaro in bocca ai tanti fan della coppia che già speravano nei fiori d'arancio. Al momento non sono ancora state ancora rese note le motivazioni della rottura. La supermodella brasiliana e lo scrittore 36enne Metinara, si sono conosciuti per caso ad un evento benefico in Stabul, la città d'origine di Ara. Hanno più volte confermato di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine. Dopo il loro incontro, infatti, non si sono più lasciati ed hanno intrapreso una relazione che ha fatto sognare milioni di follower attraverso foto romantiche postate sui rispettivi profili Instagram e continuo dediche d'amore. Adriana Lima, oltre ad essere ricchissima, i suoi guadagni attuali ammontano circa 9 milioni di dollari all'anno, alle spalle un matrimonio durato quasi 5 anni con il cestista serbo Marco Ieric, padre delle sue due figlie Sienna e Valentina, dal quale si è separata nel 2017. Non tutti sanno che ha avuto anche un flirt con il cantante Lenny Kravitz e con il centrocampista della Juventus Samy Kedira. In questo periodo le è stato anche attribuito un flirt con il portiere del Besiktas, una voce che però ha prontamente smentito. Chi se ne frega!